Questo programma è promosso da Anci Abruzzo e Isea, con il sostegno di Ecosism, Didonato S.P.A., Fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile e Magazzini per l'edilizia, Madis Costruzioni. Un viaggio nel cantiere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra luci ed ombre, rinvii amministrativi, caro prezzi ed urgenze infrastrutturali. L'Abruzzo si prepara a vivere una sfida colossale, con circa 10 miliardi di euro in cantiere, appunto, ai quali si aggiungono le risorse destinate dal fondo complementare. Iniziamo questa nuova puntata di Cantiere Abruzzo. Oltre la metà dei fondi europei per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza andranno al settore delle costruzioni. Per rilanciare l'economia dopo la pandemia di Covid-19, all'Italia toccheranno 191 miliardi e 500 milioni di euro, di cui 70 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 121 in prestiti. Del totale, 108 miliardi, oltre il 56%, rinvigoriranno l'edilizia pubblica. Un'occasione storica per la realizzazione di infrastrutture, quali ponti e ferrovie, per l'edilizia scolastica e ospedaliera, per la ricostruzione nelle aree terremotate, per l'innovazione digitale, così come per la transizione ecologica, mediante il finanziamento dell'eco-bonus e del super-bonus e la riqualificazione degli immobili. Dei 108 miliardi che riguarderanno le costruzioni, 87,3 sono già territorializzati. Significa che per l'81% dei finanziamenti è possibile individuare i territori nei quali le risorse europee produrranno effetti in termini di investimenti realizzati. La maggior parte della somma andrà al mezzogiorno e al nord del paese, dove arriveranno rispettivamente 37,3 e 36 miliardi, ovvero il 43 e il 41% del totale. Al centro Italia il 16%, cioè 14 miliardi. In particolare in Abruzzo è destinato il 4% del totale territorializzato, per un ammontare di 3 miliardi e 849 milioni di euro. Paragonato al piano Marshall dopo la Seconda Guerra Mondiale, il PNRR, oltre a consentire lo sviluppo verde e digitale del paese, dovrà garantire il boom economico dopo due anni di crisi dovuta al Covid, senza considerare i danni finanziari della crisi del 2008, a cui non si è ancora posto riparo. Le imprese appaltatrici però non si abbandonano in cauti festeggiamenti. La prima perplessità dei costruttori riguarda le tempistiche. Oltre al fatto che l'erogazione dei fondi europei è strettamente condizionata dall'attuazione di una serie di riforme degli Stati membri, i lavori dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2026 e questa è la data limite per utilizzare quanto stanziato nel PNRR. Grandi ostacoli però si riscontrano in fase di progettazione, cioè quando le norme burocratiche allungano i tempi per poter aprire i cantieri. Altra questione che potrebbe mettere a rischio l'utilizzo dei fondi europei è quella che riguarda il caro prezzi. I materiali edili e il loro trasporto, infatti, sono aumentati costantemente negli ultimi due anni e il rincaro medio è del 40%. E' semplificativo il prezzo del bitume, la miscela utilizzata per l'asfalto, il cui prezzo è schizzato dell'80%. Il governo è al lavoro per intervenire sul prezziario, così da calmerare gli aumenti implementati anche dalla crisi energetica dovuta al conflitto bellico in Ucraina. Edoardo Bianchi, vicepresidente del Lance, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede risorse per il nostro paese pari a 220 miliardi di euro, di cui ben 108 miliardi e quindi quasi la metà sono destinati al settore delle costruzioni. Una grande sfida, sicuramente dai tempi molto stretti. Quali sono le priorità che avete individuato? Intanto è importante ricordare l'affermazione del ministro Giovannini che questa partita di all'ammodernamento del paese si giocherà su un arco temporale più lungo, un arco temporale di 10 anni perché tante sono le risorse messe a disposizione anche dai fondi ordinari di bilancio. Quindi c'è un primo tempo 2021-2026 con i fondi del PNR che fungeranno da volano in molte occasioni, poi c'è un secondo tempo di altri 4 anni per chiudere l'arco di 10. Il mondo delle costruzioni è quello più coinvolto, ci sono danari in diversi capitoli di spesa, quello più importante è la missione 3 che riguarda l'ammodernamento ferroviario e poi ci sono tutti i soldi, diversi rivoli che riguardano l'efficientamento energetico, riguarda l'ammodernamento delle scuole, degli ospedali, ci sono tantissime risorse. Il problema più grande che c'è fino a questo momento è che mancano i progetti, cioè ci troviamo al di là di quello che riguarda l'ammodernamento ferroviario che RFI sta a un punto abbastanza avanzato progettuale, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti c'è un gap progettuale che dopo un anno e mezzo non è stato ancora colmato e che può rappresentare una vera mina perché il PNR possa decollare sotto questi capitoli. Bene, sicuramente un problema abbastanza importante, così come rappresenta un problema il caro prezzi. Mentre l'Europa ha affrontato subito con tempestività ed efficacia l'emergenza prezzi, in Italia adesso c'è il rischio che il PNRR si blocchi del tutto dopo che è saltata al governo la misura che consentiva di sospendere gli appalti appunto per il caro delle materie prime. Cosa ci si aspetta adesso e quali sono i passi che l'ANCE sta compiendo? Intanto il problema oggettivo è che c'è un aumento dei prezzi che non riguarda solo l'edilizia, diciamone due che riguardano un po' tutti, carburanti, elettricità ed energia che affliggono anche le famiglie. La misura che lei richiamava era una misura che non risolveva il problema, evitava che le imprese oltre al danno potessero subire la beffa perché era una misura che prevedeva che in presenza di un aumento sconsiderevole dei prezzi c'era la possibilità per le stazioni appaltanti di fermare i lavori. Perché? Perché era un qualcosa di buon senso, perché le imprese non possono andare avanti se non riescono a comprare le forniture. Però il vero problema non era questo, il vero problema è che servono delle misure da parte del legislatore per consentire alle imprese di avere prezzi adeguati rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato. Oggi ci troviamo di fronte a dei prezzi completamente disallineati e non è pensabile da parte della politica girare la testa dall'altra parte perché vorrebbe dire o non fare le opere, quindi far fallire il PNR, a meno che qualcuno non possa pensare che le imprese con i propri danari eseguono opere pubbliche e la riprova ne è dimostrata dal fatto che ci sono moltissime gare che vanno deserte. Una delle gare più importanti del PNR era un'opera che riguardava su Roma la realizzazione del Ponte dei Congressi 146 milioni è un'opera dove non ha partecipato nessuna impresa d'Italia perché anche con il ribasso zero non si sarebbero potuti realizzare i lavori. Quindi rischiamo che ci siano degli avventurieri che fanno dei ribassi pur che sia per prendere un lavoro e poi quel lavoro non verrà mai realizzato in quei tempi e quei costi, quindi è ancora più grave. Quello che chiediamo al legislatore è che la smetta di cincischiare intorno a un provvedimento che rimanda sempre alla soluzione del problema, serve un provvedimento oggi è una situazione di emergenza, l'edilizia si trova al pronto soccorso quindi estremissima urgenza, non è pensabile risolvere il problema tra un anno o due serve una risposta ieri, oggi, neanche domani perché già domani è troppo tardi. Non soltanto le risorse del PNR ma anche quelle destinate dal fondo complementare alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2009 e di quelle colpite dal sisma del 2016 e del 2017. Due linee di intervento, da una parte ci sono un miliardo di euro per città e paesi sicuri, sostenibili e connessi e dall'altra parte ci sono 780 milioni di euro per gli interventi di rilancio economico e sociale. Ne parliamo con il commissario alla ricostruzione, l'onorevole Giovanni Legnini. Prima misura messa in campo dal fondo complementare riguarda la realizzazione di città e paesi sicuri, sostenibili e connessi. Quali sono le azioni che state mettendo in campo? Numerose sono le azioni di questa macromisura, tutte finalizzate al processo di rigenerazione territoriale, appunto rigenerazione urbana, infrastrutturazione digitale, strade statali e comunali, recupero di immobili pubblici, un complesso di misure che si aggiungono alla ricostruzione, che sono complementari alla ricostruzione e che servono per dare un impulso alla crescita di questi territori. Un occhio di riguardo riguarda sicuramente le infrastrutture, qui ci sono delle idee innovative tra le quali il treno all'idrogeno, il tema della sostenibilità diventa centrale, di cosa ha bisogno il territorio? Ha bisogno di essere infrastrutturato, connesso, sicuro e il complesso di queste misure va in questa direzione. I tempi per le imprese, per la seconda misura per le imprese e quando sarà possibile presentare le domande? Brevissimo, stiamo definendo i bandi che approveremo, dobbiamo alcuni notificarli alla Commissione Europea per la verifica del rispetto del regime di aiuti, abbiamo il termine del 30 giugno per pubblicare il bando, i bandi vorremmo anticiparne almeno un paio per avviare questo processo, che è molto importante, ci saranno opportunità rilevanti per imprese di qualunque dimensione e per qualunque tipologia produttiva. E visto che il PNRR guarda al futuro, non potevamo non toccare l'argomento riguardante l'edilizia scolastica. Sentiamo l'assessore con delega alla formazione per la Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale. C'è stato un primo acconto che ci è stato edelargito per quanto riguarda l'edilizia scolastica e come diceva lei è previsto appunto nel PNRR, sono fondi importantissimi, noi abbiamo fatto uno scorrimento di una gradatoria già in essere in forza della piattaforma digitale che abbiamo appunto per avere un censimento di tutte le situazioni scolastiche d'Abruzzo. è fondamentale che i ragazzi siano in posti sicuro e quindi sicuramente sono fondi importanti. Questo è un primo acconto, ce ne saranno altri, mano a mano stiamo cercando di aggiornare la piattaforma, sollecitando i comuni per chi non ancora carica tutte le progettualità su questa piattaforma in modo che appena arrivano questi altri fondi possiamo finanziare gli altri edifici scolastici che come diceva sono fondamentali per la sicurezza dei ragazzi. Ecco, come verranno utilizzati questi fondi? L'Unione Europea pone dei limiti a come impiegare questi fondi? In questo momento abbiamo destinati in base al gradatore che avevamo, logicamente per il miglioramento edilizio da ogni punto di vista dell'edificio, quindi anche a livello sismico, energetico, ma anche per nuove costruzioni qualora ce ne fosse il bisogno. Quindi non ci sono grossi indirizzi dettagliati, quindi abbiamo possibilità di gestire in maniera abbastanza ampia, quindi andiamo incontro alle esigenze dei comuni e dei sindaci che vivono nel territorio e sanno quali sono le criticità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione anche per il settore dell'edilizia e per ammodernare i fabbricati abruzzesi? Sì, è un'occasione che l'Abruzzo non può non cogliere, abbiamo un flusso di denaro che è evidentemente straordinario e per situazioni così straordinarie ci vuole un'organizzazione straordinaria. La regione si è dotata di un'organizzazione a due teste, una testa di natura politica con una cabina di regia coordinata dal sottoscritto e avente al suo interno il presidente della regione, il presidente della provincia, i presidenti delle comunità montane e il presidente dell'Anci Abruzzo, quindi il rappresentante dei comuni. Poi c'è la task force tecnica diretta dalla dottoressa Grimaldi, Dipartimento Presidenza con una quota di partecipazione di esperti intraregionali e con una quota di partecipazione di esperti che vengono mandati dal Ministero. Tutto questo per andare a creare una struttura che possa essere in grado di rispondere nei tempi e nei modi giusti alla sfida difficile nei tempi e nei modi a cui siamo impegnati per quanto riguarda il PNRR proprio perché i bandi che vengono emanati dal Ministero portano gli enti a dover rispondere in poco tempo e con progetti cantierabili, quindi con situazioni che sono già state digerite e metabolizzate dalle strutture di riferimento. C'è una situazione che vede il governo parlare direttamente con i comuni beneficiari molto spesso questi bandi sono riferiti direttamente ai comuni i comuni molto spesso hanno incapacità di rispondere nei tempi e nei modi giusti perché spesso hanno difficoltà a gestire l'ordinario figuriamoci un aspetto straordinario come quello del PNRR a questo punto la Regione Abruzzo sta provando a essere un po' la chioccia la madre che tutela tutte le comunità locali in primis appunto i comuni che devono rispondere a questi bandi con le professionalità che vengono messe a disposizione dei piccoli comuni o comunque dei comuni che ne facessero richiesta proprio per andare a cogliere il risultato il fine è proprio poter rispondere nei tempi e nei modi utili con progetti che siano all'altezza che superino il livello di qualità che richiede appunto il PNRR quindi una sfida difficile a cui la Regione Abruzzo sta rispondendo dimostrando di essere al passo con i tempi e all'altezza della situazione che stiamo vivendo nonostante le emergenze non finiscano mai si sta superando quella della pandemia e stiamo entrando nelle conseguenze economico, finanziarie o sociali dettate dalla guerra e quindi dall'aumento dei costi della vita in generale in primis dell'energia Ecco perché i fondi arriveranno e il problema sarà poi anche riuscire a spenderli perché rimane un problema anche dal punto di vista burocratico oggi per aprire i cantieri ci sono tempi molto lunghi la Regione cosa può fare in questo senso? La Regione proprio con la cabina di regia di cui sono a capo e che appunto per il quale incarico ringrazio l'intera giunta e il Presidente in primis ha voluto fare un esame proprio di quelle che sono le criticità e le vulnerabilità dei passaggi che sono un po' dei vulnus amministrativi laddove le pratiche si bloccano andiamo al dunque quindi c'è stata una diagnosi proprio da parte della cabina di regia andando a verificare quali sono questi punti dolenti della macchina burocratica dove è che si fermano nelle valutazioni di impatto ambientale valutazioni di impatto strategico permessi urbanistici abbiamo visto dove sono bloccate le pratiche perché poi da quel punto di vista risolvendo questi ambiti andando a mettere esperti o comunque energie fresche laddove queste pratiche storicamente si bloccano o comunque rallentano l'iter andremo a creare delle condizioni per portare a casa il risultato a cui siamo chiamati col PNRR Cosa prevede il principio del Do No Significant Harm inserito nel PNRR? Il principio Do No Significant Harm prevede come suggerisce la traduzione letterale di questo acronimo che tutti gli interventi, le misure e le riforme incluse nei piani nazionali di ripresa e resilienza non arrechino alcun danno significativo all'ambiente questo principio che fa riferimento agli impegni presi in ambito comunitario alla COP di Parigi e agli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite è stato fondamentale già per accedere ai finanziamenti del Fondo Europeo di Ripresa e Resilienza e deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione dalla redazione dei bandi ai singoli progetti è responsabilità di ciascuna pubblica amministrazione attuare le misure secondo il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria infatti questo principio di fatto si basa su quanto specificato nella tassonomia per la finanza sostenibile che individua gli obiettivi ambientali da preservare obiettivi che sono la mitigazione dei cambiamenti climatici l'adattamento ai cambiamenti climatici l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine la transizione verso l'economia circolare con riferimento anche alla riduzione e al riciclo dei rifiuti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e infine la protezione e il ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi uno specifico allegato tecnico della tassonomia riporta quelli che sono i parametri per valutare se le diverse attività economiche che si mettono in campo contribuiscono in maniera sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che comunque non causano danni significativi ad uno degli altri obiettivi in questo allegato, in base al sistema europeo di classificazione delle attività economiche vengono quindi individuate le attività che possono andare in questa direzione identificando i settori che risultano poi cruciali per un'effettiva riduzione dell'inquinamento come abbiamo detto prima, tutte le misure del PNRR italiano devono essere conformi al principio del Do No Significant Harm e pertanto tutti i progetti e le riforme proposti nel piano nazionale italiano sono stati valutati dalle amministrazioni pubbliche con il supporto naturalmente di esperti in materia ambientale stimando in una prospettiva di lungo termine per ogni intervento finanziato gli effetti diretti e indiretti che sono attesi per dare assistenza alle amministrazioni nel processo di indirizzo di raccolta di informazioni e verifica e fornendo anche un orientamento su requisiti tassonomici sulla normativa corrispondente e sui diversi elementi utili per documentare il rispetto di questo principio è stata realizzata una guida operativa molto utile che si compone di una mappatura di tutte le misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi una serie di schede tecniche che si riferiscono a ciascun settore di intervento con informazioni di tipo invece operativo e normativo per quanto riguarda l'identificazione dei requisiti tassonomici e dei vincoli che si hanno rispetto al Do No Significant Harm e una checklist di verifica e di controllo per ciascun settore di intervento ricordiamo che la guida è scaricabile sul sito ufficiale di Italia Domani nella sezione proprio dedicata al principio Do No Significant Harm Per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata Grazie Questo programma è promosso da Anci Abruzzo e Isea con il sostegno di Ecosism, Didonato S.p.A., Fratelli Ettore e Carlo Barattelli Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile e Magazzini per l'edilizia, Madis Costruzioni e Magazzini per l'edilizia, Madis Costruzioni, Eternity, Eternity